Complimenti innanzitutto per il man of the match, però un po' d'amarezza, io ho fatto un po' di tre contropiedi puliti puliti, due punizioni di prima, che dici? Allora, la partita è stata durissima, Alvereggio è la candidata numero uno per la promozione, noi abbiamo fatto secondo me una bella partita, ma abbiamo fatto degli errori sciocchi, evitabili, abbiamo preso qualche contropiede di troppo, non abbiamo fatto proprio una partita da dieci, abbiamo fatto una partita secondo me da otto e col Alvereggio per vincere devi fare una partita da dieci. E' mancato qualche episodio fondamentale che non è entrata la palla oppure abbiamo sbagliato magari una marcatura che loro hanno preso fiducia e hanno raggiunto il pareggio a poco dalla fine.